Sassano sei in compagnia degli Avengers, è un cane che cerca di aggredire nei cilini Sono giocatore degli Avengers Ah buono no? Comunque Sassano passiamo a noi, questi portoguaro che perdono Niente, eravamo 5 contati, Guagliardo ci ha fatto il bidone, mi ha fatto la cara di nuovo Cioè lui rappresenta gli eccettamobili Guagliardo oggi mancava perché ha avuto un problema familiare San Marco doveva sostituire Spato del Gatto che sono in mezzo di istruzione Non è possibile venire a casa una visi, eravamo 5 contati, però abbiamo giocato bene Siamo stati sciuponi in attacco In difesa abbiamo segnato di bene, siamo stati un po' sfortunati sugli ultimi video che abbiamo subito Uno che è in mischia in aria e uno che praticamente l'ho presa col piede, quello era davanti, ho toccato la mano e entra a vedere Marco tu vuoi dire qualcosa su Sassano? È un grande giocatore Chiudiamola qua Ho capito Peccato perché con la sconfitta di Sporting Mania potevate agganciare la direttura del terzo posto Sono stati polli pure perché praticamente c'era Alexio fuori davanti alla pala e davanti al portiere C'era un giocatore a terra e l'ha buttata fuori apposta per gesto di fair play Speriamo che questo ci dia come premio fair play, speriamo che conta Venerdì Soccer Angels Venerdì Soccer Angels Lei infatti Venerdì Soccer Angels è per me un derby Perché gioco contro Ferrara e Cicero Cicero che sono i miei compagni di scuole superiori Pierluca e Valenti e Umberto Pera che sono i miei compagni elementari Quindi una specie di derby Quindi sarà una partita molto sensita per te Per me si, se era un paragoni di Darkside Minchia era veramente un derby Perché abbiamo un po' di sospeso con loro Ok, nella partita di campione abbiamo perso 2 a 1 Va bene, stasera ti ringrazio Ci vediamo venerdì prossimo A domani Ciao Manuel Saluta vintiere Ciao cara Saluta Charlie Guardala Charlie Abbaialo Ciao